Oggi ti aiuterò a definire gli obiettivi della tua strategia video. Mi chiamo Matteo Piccinini, sono regista e coach e ti aiuto a creare contenuti video per avere successo sui social e aumentare il tuo fatturato. Gli obiettivi della tua comunicazione video vanno sempre definiti prima di iniziare a fare le riprese e prima ancora è fondamentale sapere quali sono gli obiettivi del tuo business in modo che la comunicazione sia allineata. Quindi come si definiscono gli obiettivi del business e di conseguenza i contenuti video? Attraverso una semplice formula gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, responsabili, ecologici e con una data. Un obiettivo specifico e misurabile è quando ad esempio decido che voglio pubblicare tre contenuti video ogni settimana e facendo questo mi aspetto ad esempio di raggiungere il 20% di pubblico in più al mese. In questo caso è specifico, misurabile sia nel numero di video da fare sia nel risultato desiderato. Responsabile Devi avere la responsabilità e il controllo dell'obiettivo. Quindi l'obiettivo di fare tre contenuti alla settimana è sotto il tuo controllo ma non lo è il risultato che ti aspetti. Il 20% di pubblico in più al mese non è sotto il tuo controllo completo perché anche quello dipende da tanti altri fattori esterni a te. Il tuo compito quindi è quello di massimizzare le possibilità che questo accada ma non può essere un vero obiettivo. Poi l'obiettivo deve essere ecologico inteso come un qualcosa che non crea danni a te o agli altri. Ad esempio se per fare i tre video alla settimana trascuri tuo figlio e ti chiudi in camera tutta la domenica e a lungo andare non è sostenibile. E infine deve avere una data, un tempo definito. Quindi nel nostro esempio realizzo questo lunedì i tre contenuti e poi li pubblico martedì, mercoledì e sabato, facciamo un esempio. Questo è solo un piccolissimo assaggio ovviamente di cosa vuol dire definire gli obiettivi. Fammi sapere cosa ne pensi e se ti ritrovi in questa formula scrivendomi nei commenti qui sotto. Per scoprire gli otto elementi necessari per avere successo con i video sui social scarica ora la checklist gratuita che trovi nella descrizione del video. Seguimi iscrivendoti adesso al canale e metti la campanella degli avvisi per non perderti altri consigli su come scalare la tua attività attraverso i video sui social.